Signori, buon lunedì, bentornati qui su Messa a Fuoco, la prima puntata ce la siamo tolta, Manu, come stai? Malissimo. Perché è quella puntata? Oggi è come quando tu finisci la quarta superiore, hai una valanga di compiti da fare, una marea, tutto, tutto il programma di latino, un casino infinito. È il 14 settembre alle otte e mezza di sera, il 15 mattina inizia la scuola e tu non hai guardato un bel niente. Oggi per me è questo giorno qui. Vabbè, fondamentalmente ragazzi la puntata di oggi sarà a tema riassuntone di quello che è successo durante la nostra assenza, andremo a vedere tutte le novità, commenteremo in maniera anche molto felice e contenta quello che è successo. Indubbiamente. E soprattutto lo faremo qui con voi, insieme, su Messa a Fuoco. Quindi direi sigla e poi cominciamo. Leveline. Buon lunedì ragazzi, bentornati. Benvenu tornati. Benvenu tornati. Devo abituarmi. C'è stato un bel feedback sul nuovo studio, sono molto contento. Ah, meno male col culo che ci siamo fatti. Esattamente. E tra l'altro, parlando di culo e di cose che ci facilitano questa roba, parliamo dello sponsor di questa puntata, che è The Answer, che sta supportando tutto questo. Posso dire dei grandi. Esattamente, dei Hans Grandi. È un plugin, oppure un'app direttamente sul vostro iPhone, potete trovarla in varie cose, c'è sia per Premiere, che per Final Cut, che per DaVinci, eccetera. E che per? Anche per l'iPhone, ovviamente. Per Android. Lightroom, perché anche noi fotografi ogni tanto. Anche Photoshop. Insomma, è un po' per tutti i programmi, scopritelo, è veramente fatto strabene, vi permette di ottenere quell'effetto un po' pellicolo che piace tanto a tutti, senza lo sbatti di sapere come usare. Diciamo che potete avere quell'effetto da infami, addirittura senza nemmeno dover comprare l'iX100V. È incredibile. Potete farlo con qualsiasi porcheria utilizzata per scattare, inclusa la ZFC. Esattamente. In descrizione trovate il codice sconto esclusivo di Crop. Cropos 20%. No, non è Cropos 10%, ma è Crop10 e avete 10% di sconto sull'acquisto di The Answer. Quindi scopritelo, mi raccomando, adesso noi cominciamo, Manu, perché è una puntata veramente densa. E io ho fatto la raccolta della creme della creme di quello che è uscito. Non vedo l'ora. Vorrei cominciare... Non vedo l'ora. A pallettoni. Nikon ZF, signori. Già la miniatura di questo inizio video ufficiale di Nikon, vorrei ricordare, mi fa venir voglia di bestemmiare, ma non lo farò. Comunque potevano mettere almeno il divano giallo per richiamare Nikon. E verde, perché è una transizione nuova. Ah, perché hanno copiato Fuji e quindi hanno messo verde. Però c'è il cuscino giallo, desaturatissimo, però vabbè. Nikon ha lanciato questa nuova macchina, chiede... È un po' il nuovo inizio forse di Nikon? Speriamo di no. È interessante. Cosa ne pensi? Io... Allora, io sono curioso semplicemente per vedere una full frame Z di Nikon dopo sostanzialmente la Z5, che è l'ultima che è uscita, al di là della Z8 e Z9. Certo, più commerciale, insomma. Esatto. E sono curioso di vedere un pochino com'è la camera. Io non amo il feeling retro nelle camere, perché altrimenti gireremo ancora con i cavalli e le carrozze. Però posso capire che ci sia una fetta di pubblico che dica, oh che bello. Posso citare dei grandi di YouTube che probabilmente non hanno cazzo a fare, che hanno intitolato i loro video Fuji trema? Non credo tremerà Fuji. Anche se, a differenza della X-T5... Fermo un attimo. Guarda questa foto. Il tasto aggiunto con scritto Nikon dentro. Pazzesco. Devi essere veramente uno stronzo per andare in giro così. Pazzesco. Però, almeno a differenza di quella schifezza della X-T5, questa è full frame. Vero. E a me ti dirò, io ho dei seri dubbi. Il primo è il grip. Mi mette un terrore addosso, che tu non hai idea. Però, torniamo sempre, allora, io non voglio giustificare, io ripeto, non sono un fan di questo tipo di camere, però posso capire il senso all'interno del mercato. Però chi sceglie una camera del genere che non sia laica, sa già che l'ergonomia farà cagare, perché anche le Fuji, soprattutto X-Pro, X-T4, 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 X-T4. A me il problema grosso è il costo. Poi questa macchina nasconde una chicca. Cioè esplode? No, molto più bella. Cioè? Ha due slot. Davvero? Uno per? Le SD. L'altro per? Non mi dire microSD. Non è vero. Proprio le microSD. Io ho letto le specifiche che c'è scritto microSD. Non è vero, dai. Giuro. Non è vero. Ho anche riletto due volte perché ho detto, ma? Non è possibile. Se cerchi sul sito di Nikon c'è questa cosa qua. Ah, puoi fare il 4K60 ma in DX mode. Per forza. Vabbè, comunque allora io dirò una roba. Secondo me ci sono due problemi principali. In primis è che, ripeto, questa macchina qua va bene per il mercato giapponese perché ha i soliti colori eccetera eccetera, va bene perché, ma era fondamentale. Cioè Nikon ha veramente bisogno di questa roba adesso? Secondo me l'ha fatta per provare a cavalcare il trend del simile analogico. Insomma, quel trend che cavalcano già tante altre camere avevano sostanzialmente una cozzaglia di pezzi tra ZF e C, tra probabilmente sono andati in una discarica a recuperare tutte le ZFM da cui hanno preso l'ispirazione e allora hanno detto, sai che c'è, ci siamo dentro, un sensore full frame di quelli che già utilizziamo e via andare. Poi fanno questa cosa delle pelli colorate che per me è horror. Tanto ho scoperto, dico un piccolo insight che mi hanno rivelato, in Italia lo fanno in Italia. Cosa? Mettere la pelle di un colore diverso. Italiani. Vabbè, non serve a un cazzo questa roba. Io ho un quesito in realtà e poi chiudo questa notizia. Nikon è super interessante questa roba, il problema è che dovrebbe cominciare a fare delle lenti oltre al 28 e al 40, quello che vediamo qua in foto, utili per questo tipo di macchina, perché qua sopra non ci puoi montare nessuna lente full frame grossa, ci monti un 24-70-28 su sta macchina, ti si ribalta in avanti. È uno strazzo. No, diciamo che dovrebbe, a me la cosa, che è la stessa cosa che mi lasciava un po' perpresso della ZFC, è che tu hai già una line-up di camere con un taglio ben preciso a livello di design, a livello tecnico, quello che ti pare, nel momento in cui fai una linea parallela con lo stesso mount, tu devi fare una linea di lenti praticamente identica a quella che hai già, semplicemente con una scocca diversa. E questa cosa io penso sia costosissima. E soprattutto ha un po' l'effetto A7C2, no? Cioè, Sony fa questa macchina super leggera, compatta, toglie e cosa le mette, e poi però hai tre lenti compatte, tutto il resto è un casino, a parte il 28-60 e le tre che uscirono al tempo non c'è più niente, quindi secondo me in realtà il problema principale è proprio questo, cioè, bello, te la compri, però ci monti poi una lente, il problema è che costa 2K, cioè per me è questo. Il costo, secondo me, è il problema più grande. Fosse costata 1.500, ti avrei detto, 80 roba. Sì, 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 magari 1.500 in bundle con almeno il 28, dici sai. Secondo me 1.500 con il 28 in bundle era... Perché teneva botta all'XS20 di Fuji, che secondo me questo era un po' quello che... Esatto, però nella cozzaglia e nella robaccia. Vabbè, comunque vorrei provarla per capire delle cose e speriamo presto di poterlo fare con i nostri amici di Nital e di Nikon, ma voglio passare alla notizia perché secondo me gli sbagli vengono sempre seguiti da altri errori. Tu dici. Non parlo di Nikon, parlo di Sony. Sony ha deciso di mettersi nel mondo dei microfoni in questo periodo e non ho capito il perché, non era necessario, però ci stanno questa slitta e vogliono fare cose. Business, business, business. Hanno lanciato questi nuovi microfoni, in realtà avevano già fatto la versione a un canale, adesso hanno fatto la versione a doppio canale e con il case che si ricarica, eccetera. Quindi ha due canali questo microfono. Sì, esatto, puoi registrare insieme, tipo, dopo intervista. Con Naviglio Grande e Naviglio Pavese. Esattamente, non so cosa cazzo c'entri, ma sì. Due canali. E poi, ovviamente, non c'è il cavo perché Sony ha questa slitta che permette di fare le cose. Tutto stupendo, sulla carta. Insieme lancia sempre wireless il microfono da gaming. Ne prendo atto. Ne realizzo. Aspetta, aspetta, lo annoto sul mio taccuino delle cose di cui non me ne frega un cazzo. Esattamente. Io voglio portare in realtà però un problema, perché in linea di base, qual è l'idea di Sony? L'idea di Sony è, io ho tutto collegato alla camera, le mie camere vanno in streaming via USB-C, quindi potenzialmente con un cavo, cioè l'USB-C, camera, computer, io vado in streaming e ho audio perfetto, video perfetto, eccetera. Sulla carta, stupendo. Tutto fila alla grande. Quale cazzo diventa il problema? Che se questi microfoni costano 419 euro, ok? Anzi, dollari. Quanto? Quattrocentocinquanta dollari, quelli appesi qua. Capite che incominciano a scricchiolare perché ora Rode ha lanciato i wireless Go Pro, che sono Pro, registrano internamente, hanno il timecode, ti danno la confezione di ricarica, due lavalier e costano 490 euro. Più che altro i Rode sono dei microfoni veramente con quattro paia di palle, cioè nel senso con quella roba lì, te in una botte di ferro costantemente. E più hai il timecode adesso, cioè puoi syncare le camere, cioè puoi fare un miliardo di cose, no? Io mi chiedo perché io con un panorama come i DJI, gli Hollywood se vuoi spendere di meno. Io mi sono tratto malissimo con i DJI. Esatto, e i wireless Pro, uno deve spendere così tanto per comprare dei microfoni Sony. Per la slitta digitale, ora, stupendo, bellissima la cosa della slitta digitale, non hai cavi, eccetera, ma cosa numero uno, se poi c'è attacchio il lavalier, il cavo ce l'hai e quindi il problema già cade a picco. Cosa numero due, io sinceramente per 450 euro voglio un paio di microfoni che succede qualsiasi cosa, stanno registrando loro internamente, posso controllarli da remoto, cioè questi Sony qua sono tre pezzi di plastica che non fanno nulla, non hai schermi, non hai gestione. I ROD adesso puoi collegarli all'iPhone e usarli scaricando l'audio interno girato senza che siano collegati alla macchina, puoi fare un miliardo di cose, no? Pazzo in culo. Quindi diciamo che, secondo me, bello, ci sta che entrino in questo settore perché Sony ha sempre fatto microfoni e va bene, però io lo farei con un po' di cognizione di causa e guardando il mercato. Possiamo andare alla prossima e non dare tutto questo tempo al pattume. Va bene, però non ti incazzare, vorrei una notizia matta che secondo me questa ti potrebbe anche piacere, Manu. Spiega. La Oua ha lanciato questo set di obiettivi. Belli, le borracce! Non sono borracce, no, non penso che siano borracce, almeno credo. Cos'è quello schifo lì? Cos'è un pesce gatto? Cos'è quel disegno? Eh, io penso che questo sia l'obiettivo. Non ho il disegno. È il Dragons. Pesce gatto. Perché si chiamano Aurogon, questo sia un drago. Aurogon. Vabbè, comunque ha lanciato questo iper macro fuori di testa, pensato veramente per, non lo so, non lo so cosa fosse a servire, però... Ma sono termiche queste borracce? Non sono borracce. Ma c'è l'acqua, sono borracce. Vedi, sarebbe per riprendere proprio in maniera veramente macro. Tio, boh. Guarda che roba. Guarda che roba, oh. Oh, oh. Io quella roba lì ce l'ho sotto le ascelle la domenica sera. Non credo che sia vero, no. Però è veramente figo, interessante. Sicuramente è un uso molto specifico e non credo che sia una roba da mercato comune. Ecco, serve, penso, per gli studi fotografare della roba in maniera... Io penso che questi siano prodotti che compri un fotografo su 10.000. Però è interessante. Guarda quanto è il dito, ha visto? Guardalo lì, quanto è strafato il coso. Questo sono io il sabato sera dopo tre gin tonic. Bello lui. Divento così. Ma io quindi posso fare queste foto con questi tuboidi? Sì, ipoteticamente potresti fare queste foto. Ha i vermotti, ha tutte le cose che si muovono, vedi. Secondo me ci sono anche gli innesti poi per i telescopi, non lo so. Non so veramente cosa cazzo sia sta roba. Però è interessante, è super affascinante. Guarda che roba. Che angoscia. Vedi, puoi switchare. Tu pensa a lui che va in giro a fare le foto ai bruchi con sto cop... Cioè, ma che due palle. Vabbè, è un lavoro comunale. Non può fare le foto alle tipelle come fanno tutti quelli che non sanno fare un cazzo. Lui le fa riflessi dentro i brucotti, però. Vedi, negli occhi del ragnoide c'è la tipa nuda. Ah, bella idea, questa è una bella idea. L'hanno fatto per un po' di innesti, loro. Anche per la GFX. Pazzesco. Comunque, è una notizia interessante. Quanto costano? Non lo so dirtelo adesso così preciso al momento. Però posso... 1500 dollari. Vabbè, dai. Tutto il set, non costano niente. Beh, effettivamente la roba di Laos è fatta col culo. Ma non è vero. Ma su che base? Adesso prendo Laos lo spacco a metà. Vabbè, passiamo alla prossima notizia, perché secondo me dobbiamo parlare del nuovo 135 mm di Nikon. Proprio ciò di cui c'era bisogno. C'era bisogno di farlo. Nikon ha finalmente lanciato il suo Plena. Ma io non conosco la storia. Perché questa lente ci ha scritto Plena? Cioè, chi è Plena? Perché la fanno in collaborazione con Plenitude. Non credo... Per la transizione ecologica di Nikon. Non credo niente che sia... Te lo giuro. Te lo giuro, me l'han detto l'altro giorno. Però la scritta è molto bella di questa lente. Posso dirti questa cosa qua? Non ricalca la scritta del 50-095. Era fatta così, credo. Vabbè, comunque hanno fatto questo 135 mm. Giusto saperlo. Non è che ci serve molto. Più che altro pesa un chilo. Comodo da avercelo addosso. E è fatto molto bene. Ne parlano tutti molto bene. Ho visto un po' di robe. Ha veramente un bel dettaglio. Vabbè, meno male. Cioè, da quello che mi aspetto da una lente, che costa solamente 3K. Una roba tranquilla così per... Dici tutto. Bella! Una bella lente. Vabbè. Questa è... Non so cosa dirti, Manu. Portala a casa e... Se Nikon me la vuole mandare da provare, io la provo con grande piacere. Tu mi hai scattato con un 135. No, perché non mi interessa. Dopo l'85 per me non c'è niente. Il buio dopo l'85. Un nuovo film di Emanuele Di Mario. Parliamo invece di cose che funzionano. Perché DJI, posso dire, senza alcun motivo valido, ha droppato il Mini 4 Pro. Il drone migliore di sempre. Assolutamente. Hai un po' iPhone, DJI, in questo periodo, no? Ma ci sta, fa bene. Esattamente. Tutti copiano dal più bravo della classe. Esattamente. Tu sei mai stato il più bravo della classe? No, però ho copiato dal più bravo della classe. Top. Solite robe. Non è che hanno aggiunto molto. Fondamentalmente fa sempre le stesse cose. 10 bit. Vola. 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 Da quest'anno vola, tra l'altro. La cosa bella è che ha la fotocamera che si gira in verticale. Hanno aggiunto questi sensori che avevano messo sull'Inspire, mi sembra. Che fondamentalmente adesso schiantarlo deve essere veramente stronzo. Tanto lo schianteranno comunque persone vedendo... Io ho visto dei video di gente che lo fa andare a culo in mezzo ai boschi e non becca un albero che si ha mezzo, quindi è molto interessante. Riassumiamo il Mini 4. Se avete il 3, non compratelo. E se dovete comprare un Mini, comprate il 3. Sì, probabilmente potrebbe essere interessante. Comunque, per quanto mi riguarda, questo è il drone che il 90% delle persone deve comprare, se vuole un drone. Ah no, assolutamente. Cioè, per me, a meno che non siete dei dronisti, comprare qualcosa che non siano i Mini, in generale, di DJI. Non ha senso. Siete veramente stupidi. Anche l'Air, secondo me, è già troppo, paradossalmente. A quel punto lì, accollatevi la compattezza, la portabilità di un Mini. Tanto c'è la qualità... Adesso ho dei Mini diventato altissimo. Io avevo il primissimo, Mavic Mini. Me lo ricordo. Avevo addirittura lo Spark e lì facevano veramente cagare. Quelli facevano schifo e aveva senso guardare l'Air, guardare il Pro. Ma ora, per la qualità che ha raggiunto i Mini, per quanto mi riguarda... Poi puoi girare in verticale, quindi per fare le storie delle vacanze siete a posto, ragazzi, non vi preoccupate. Esatto, secondo me questi i Mini sono i droni veramente per tutti quanti. Vorrei provare un Mini, perché io adesso sono rimasto al primo e non ho più toccato nulla. Vorrei riportare qualche drone sul canale di questi, non cose troppo avanzate. Ma parlando di cose avanzate... Il Matrice, no. Blackmagic ha lanciato la sua 6K full frame. Tra l'altro posso dire una delle camere col design più bello in assoluto. Chi te l'ha detto questa storia? È una città che ho sentito in un video. Vabbè, comunque ha lanciato la sua 6K full frame. Fondamentalmente non cambia molto se non il fatto che sia full frame. Mega spoiler. Credo ipoteticamente che sia il sensore della S5. Presumo a naso da quello che può essere. Non penso che ci sia un sensore nuovo. Panasonic, tra l'altro, Blackmagic ha acquistato anche l'innesto L, quindi fa parte dell'alleanza L, il che la rende comunque sopire interessante. Perde gli ND, che secondo me è la più grande mancanza di questa macchina, specie perché sarebbe stato bello avere una full frame che poteva rivaleggiare con la FXE. Però perde gli ND. E purtroppo Blackmagic, ancora una volta posso dire, delude le aspettative del mercato che chiedeva una cosa soltanto, cioè una fottuta box cam fatta da Blackmagic per non comprare la Komodo e Blackmagic è uscita con questa roba qua lasciando tutti quanti, per carità, estere fatti dal full frame, eccetera, ma delusi dal fatto che nessuno che fa cinema vuole una roba già fatta così. Sì, anche perché questa roba qui da prendere in mano fa schifo. Cioè noi ce ne abbiamo una, abbiamo... Sì, il corpo è lo stesso. Il corpo è lo stesso, fa cagare. Cioè questa roba qua da usare in mano è terrificante. Poi ci sarà chi verrà a dirti, no? Chi dice il contrario è semplicemente perché ce l'ha e non vuole ammettere che fa cagare, punto. Perché oggettivamente fa schifo sta cosa qua. Poi per carità, qualità dei file incredibile. No, no, stupenda, stupenda. Su quello non ho niente da dire. Il prezzo è sempre il solito, è un 2.595, quindi uscirà sui 2.7, eccetera. Sicuramente avere il full frame può essere interessante per tante cose, come sempre. Noi siamo grandi fautori e utilizzatori del full frame. Per forza. Ora penso che l'innesto Canon F non serva quasi più a niente, tranne in rari casi di cose che esistono già. A me sinceramente dispiacciono per due cose. In primis perché non hanno fatto un'aggiunta per avere finalmente sto cazzo di H.265 in registrazione interna, perché non si può sempre registrare in progress, benché la macchina adesso registri proxy internamente. E allo stesso tempo appunto... Io lo utilizzerei per i miei video di YouTube se non dovessi accollarmi una rottura di coglioni così grande per un video che devo buttare lì. Cioè, se non fosse che dovrei ogni volta mettere un SSD, attaccare, girare in progresso, scaricarlo, un casino, sì, e poi metterci le CF, ma non è la stessa roba. Sarebbe bello avere questa macchina per girare. Ah, ecco, questa è la notizia che ho voluto portare. Adesso te la tirerò fuori e tu sbiancherai. Portare. Però, secondo me, c'è una roba interessante, cioè il mondo dei cavalletti si sta evolvendo. Ma va? In una direzione che a me sinceramente piace. Sentiamo. I primi che sono usciti sono i nostri fratelli di Sirui, che hanno presentato lui. Ok. Cosa? Poi direte, che cazzo... C'è qualcosa che non mi torna in questo cavalletto. Che cazzo succede in questo cavalletto? Perché Simone ha deciso di mettere questa notizia? Tempo fa, Sackler, che è un'azienda che fa cavalletti abbastanza grossi, non è la Sacker, quella delle torte. Bona. Ha lanciato il Flowtech, che è questa tecnologia che permette fondamentalmente di aprire i cavalletti facendo solamente così sopra, e le gambe scendono tutte senza dover ogni volta andare a chiudere tutti. Bellissimo! Esatto. Ha lanciato questa roba, il mondo è scoppiato, ma sono cavalletti da 5K, quindi puoi capire che è un po' un problema, no? Avere. Finalmente, anche altri, tra cui Smorrig, ne abbiamo uno che è fatto più o meno così, ha cominciato a copiare questa roba. Ah, ho capito quale dici. E Sirui ha finalmente lasciato il suo cavalletto video un po' più grosso, un po' più importante, con questa stessa tecnologia. Non so se hanno acquistato la possibilità di farlo, ne hanno progettato una nuova, ma fondamentalmente tirando queste maniglie, tutte le gambe si aprono e chiudendole si chiudono tutte, in modo che finalmente non devi più ogni volta... Ogni volta come un cretino. È il fatto giusto, è in bolla. In teoria adesso dovrebbe essere sempre in bolla. Esatto, e soprattutto è molto più facile perché puoi farlo direttamente ad altezza tua e non abbassandoti. E allo stesso tempo un brand che non sentivo da un bel po', che faceva solo slider al tempo, ha lanciato anche il suo. Perché JC Onion ha lanciato il suo cavalletto fatto sul stesso modo, come vedete appunto ha questa struttura. Vabbè adesso usciranno tutti questi marchi puzzoidi, schifosi, con le copie di ciascuno. Esattamente, esattamente. Però è interessante perché secondo me questo è il modo, la direzione in cui dobbiamo andare. Cioè questo è effettivamente Mosè che apre le acque e porta il popolo ebreo fuori dal deserto. Avanti Savoia. Non so cosa cazzo c'entri. Ma vabbè. Parlando invece di cose, Manu, che queste ti possono interessare, perché questo è un prodotto che a te piace, anche se lo usi poco. L'iPhone 15 Pro? No. L'Axon. Ah sì, mi piace molto. Io non è che lo uso poco, non so neanche come si accende. Perfetto. Ha lanciato però la sua versione nuova. Però è molto bello. Con il quale potete, per chi non lo sapesse, l'Axon permette di attaccare il vostro iPhone e utilizzarlo come schermo, tramite ovviamente il cavo HDMI, è una batteria esterna, e di anche streammare il segnale della macchina tramite il segnale streaming del vostro telefono, allo stesso tempo registrare anche sul telefono. Noi lo usiamo ad esempio per registrare i menu delle camere. Però è molto bello perché banalmente se avete bisogno di avere un monitor di reference con tante cose potete utilizzare il vostro iPhone e spendere 150 euro. Sì, non dovrei portare sempre uno schermo dietro, quindi poi i cavi, cavetti, batterie, adattatori, cose. E niente, adesso hanno fatto la versione wireless, molto molto interessante, è più o meno simile a quella precedente, non è che cambia molto. Ho di nuovo perso la freccia. Incredibile questa roba. Eccoci qua. È molto figo, cioè è super compatto, hanno rivisto un paio di cose, tra l'altro adesso finalmente con il cavo USB-C ti puoi portare un cavo USB-C e l'iPhone, perché al 15 risolve tutto questo problema, ma soprattutto è wireless. E cosa aggiunge questa modularità wireless? In primis è che può ovviamente trasmettere segnale e quindi tu ti puoi agganciare a un monitor esterno piuttosto che beccare la rete su un computer e avere il segnale così pulito. E la cosa più importante è che leggevo oggi che hanno integrato tutto quanto con Frame.io, che tu non sai che cos'è, ma è un'applicazione, un'estensione che si installa su DaVinci, credo, e anche su Premiere Pro, che ti permette di ricevere file direttamente in cloud sul tuo programma di montaggio. Quindi tu potresti dire tipo, Manu va a fare lo street POV, attacchi l'Axon, mentre stai registrando lo schermo della camera, mi mandi il segnale e io te lo posso già montare. E poi tu arrivi, mi dai il file originale, e io ce l'ho in alta risoluzione e lo sostituisco solamente. Sono cazzi vostri adesso, ragazzi. Esattamente. Per chi è più nerd e vuole saperlo, ci sono alcuni approfondimenti, perché alcune aziende durante l'IBC di quest'anno registravano i video direttamente all'IBC utilizzando l'Atomos Connect Frame.io e montavano direttamente i video per YouTube da remoto perché ricevevano i proxy e poi li mandavano il flusso pulito e facevano solo più l'export. Molto, molto interessante. Qualcosa che sicuramente in futuro prenderà piede, soprattutto perché Blackmagic con l'app di iPhone che ha fatto nuova, puoi collegare direttamente l'iPhone in cloud e ricevere già le clip girate con iPhone direttamente sul tuo DaVinci. Bello, non la sapevo. Tra l'altro posso dire l'app di Blackmagic per l'iPhone letteralmente un miracolo in terra? Non ne voglio parlare oggi perché faremo una puntata dedicata su iPhone e vorrei discuterne lì. Però sì, hanno fatto veramente un gran lavoro. Sono molto, molto contento. Tanta, tanta roba. E niente, in realtà voglio schippare questa notizia ma la voglio solo accennare. Atomos ha lanciato i suoi nuovi schermi al posto del Ninja 5 ha lanciato il Ninja Ultra Ultra è diventata una parola veramente abusata con questa bordatura dorata. In realtà non sono cambiate molte cose però finalmente permette l'8K A60 che si adatta un po' a tutto il mondo attuale dato che ci sono macchine che cominciano a farlo. Però vabbè, questo è un update che ci stava. Costano un pochino di più ma il modello base sta sui 600 euro quindi è ancora affrontabile. Ecco, voglio parlare però di una cosa Manu, parliamo di luci l'unica luce che ho selezionato per te perché so che ti rompi le palle. Godox, nostri fratelli Cos'è questo mostro? Hanno lanciato il 2400 B-Color Ma quel cavo è grosso come la mia testa? Ci interessa relativamente poco Ma non mi interessa tantissimo. Non è questa la notizia che volevo coprire perché il 2400 l'hanno fatto tutti anche Aptur e anche Nanlite Tant'è grosso! È molto grande, sì. Anche il Fresnel è parecchio importante. La cosa interessante cosa hanno fatto? Dato che si sono resi conto che quando togli il mount da un 2400 ed è acceso e te lo dimentichi ti brasi la retina come vedete qui in questa foto i nuovi mount che hanno costruito per questo 2400 hanno dei pin quando togli quei pin la luce si spegne quindi quando lo togli non ti spara la luce da 2400 Watt nel viso e non ti brucia la retina e hanno fatto questa nuova aggiunta particolare purtroppo non è l'innesto BOMOS sui 1200-2400 non ce l'hanno ma hanno questo innesto G-mount proprietario però non voglio parlare di questo questa non è la vera notizia la vera notizia è questa roba qua che tu dirai? Che cazzo è? Gli specchi? Allora esiste questa azienda che si chiamava CRLS qualcosa del genere che faceva degli specchi da set non solo semplici specchi ma sono specchi fatti apposta che diffondono concentrano la luce quindi tu potenzialmente la cosa è monti una luce al piano terra la vuoi far arrivare al secondo piano al posto di alzare uno stativo per due piani spari un ponte di specchi che ti riflette la luce e te la fa entrare lì costavano 6000 euro quel kit di specchi tra l'altro metodo che poi è diventato il metodo di illuminazione di chi non sa utilizzare mezza luce probabilmente il vostro fotografo preferito di ritratto che seguite su Instagram fa esattamente questa cosa qui ragazzi esattamente e non si sa ancora bene quanto costeranno è un prototipo quello che hanno presentato non si sa una data d'uscita io però sono molto felice perché se questa roba qua diventa accessibile si già che con 1500 te la prendi esatto parliamo di tutto il kit quindi avete i diffusori quelli che vanno ad aumentare l'intensità quelli che la rendono appunto comunque sono specchi ragazzi gli specchi costano sì e poi soprattutto sono specchi con dei mount particolari sono calibrati in un modo da riflettere la luce e non farle perdere potenza insomma è super interessante ma sono contento che un brand come Godox per primo ci sia buttato in questa roba che è veramente una nicchia pazzesca io li ho visti solo una volta in azione sono veramente fighi perché puoi portare la luce dove vuoi senza montare la luce e tra l'altro la luce mandata attraverso uno specchio è molto figa come proprio tipo di luce esatto per illuminare cioè banalmente potresti portare magari in un posto dove vuoi fare una luce in un bagno ma non ci entri ci metti uno specchio che riflette un 1200 sì e lo spari diretto dentro è veramente super interessante ragazzi questa roba qua bisogna tenerla d'occhio per quando uscirà per quando sarà accessibile speriamo di provarla io vorrei veramente averla perché secondo me cambia le carte in tavola andiamo avanti parliamo invece sempre di app parliamo di Sony Sony ha rilasciato un'app per ora limitata a Burano FX6 e FX3 adesso alla 7.4 con l'ultimo update quindi fatelo che è quest'app qua forse hanno capito che c'era necessità che i smartphone cominciassero a servire a qualcosa hanno lanciato quest'app che vi permette fondamentalmente di connettere via bluetooth la camera al vostro smartphone con quasi zero lag e poter avere tutti dei controlli tra cui il controllo di registrazione il controllo di tutti i vari parametri direttamente in camera in maniera sensata non come l'image edge che non funzionava un cazzo tra cui false color la possibilità di avere i waveform eccetera eccetera purtroppo non c'è su tutti quanti a quanto pare è disponibile su tutti gli smartphone quindi non dovete per forza avere uno smartphone Sony e funziona molto bene ne sento parlare in maniera molto molto interessante non l'ho ancora provata sono sincero però bene che sia arrivata Manu tu la proverai? no ok voglio però però posso dire che ho provato l'app per scattare da remoto con le Sony licenziate chi ha fatto quell'app per favore è impresentabile comunque l'app è gratis anche sulla FX30 meno male però voglio portare al nostro pubblico di casa una piccola riflessione è forse arrivato il momento di Sony di fare un upgrade firmware per la 1 e la 7S3 porca troia è arrivato forse il momento di Sony di smettere di fare 800 camere di merda e tre buone e non aggiornarle e non aggiornare lasciarle crepare lì perché effettivamente ora la 7S3 è stata veramente dimenticata da Dio adesso racconterò un piccolo aneddoto mi dici tutto noi qui in studio abbiamo letteralmente penso tutte le Sony full frame quelle commerciali non le cine cazzi quelle cose lì e di conseguenza noi per registrare i nostri contenuti su YouTube dovevamo scegliere una camera da utilizzare le Panasonic sono finite qui per il podcast e inizialmente volevamo utilizzare la 7.4 ci siamo resi conto che la 7S3 che noi abbiamo letteralmente non l'accendiamo forse l'accendiamo tre volte all'anno e quindi è diventata la camera piantata su un cavalletto per YouTube e fine e basta che è un peccato perché tra l'altro l'immagine è stupenda io la cosa che ho notato è che da quando è uscita la FX3 la 7S3 cioè letteralmente è stata presa e dimenticata da sì che è un vero peccato e la FX3 invece è esplosa esatto all'inizio doveva essere la macchina di nicchia che è e invece è impazzita la gente ha sclerato completamente però secondo me è un vero peccato perché poi avere tutte queste camere che non sono uniformate a livello di software è veramente stupido perché comunque noi che utilizziamo FX3 e tendenzialmente la 7S3 la utilizziamo quando ci serve una seconda camera comunque avere due camere che fanno letteralmente la stessa cosa identica spiaccicata uguale ma con due delle differenze nell'utilizzo pratico sostanziale così diverse è veramente strano Sony ma che diavolo fai uniformate la cosa ma come è senza senso che su A7R5 ci siano delle cose a livello proprio di impostazioni che su A7R4 A7R4 non ci sono e nemmeno su A1 e nemmeno su A1 questa cosa non ha senso e ora che abbiamo provato A7C2 A7CR addirittura su quelle ci sono delle cose che non ci sono su neanche la R5 tipo ad esempio i nuovi menu chiamiamoli così quelli modificati ad esempio ci sono di là letteralmente la stessa identica camera non cambia niente ma sulla sua controparte la situazione per me è abbastanza secondo me il mio pensiero su Sony è che dovrebbe un attimino fare un po' d'ordine nella line up perché al momento non si capisce veramente niente perché ci sono camere che si mangiano altre stesse camere del brand e diventa un continuo mangiarsi tra di loro perché ad esempio FX3 si è mangiata 7S3 la R5 si è mangiata la A1 la A7R4 è diventata la camera jolly che per alcuni si è mangiata la 7S3 per altri si è mangiata l'ipotetica chiamiamola così anche se ha meno senso in questo caso R5 per chi non vuole e manca la 9.3 all'appello e manca la 9.3 che si mangerà tutta un'altra serie di cose e prima o poi sta cazzo di A1 avrà un aggiornamento e lì quindi la R5 cosa succede? meglio o peggio? non ha senso una delle due di troppo e secondo me a questo punto mi viene da pensare che sia la 1 poi se entriamo nel mondo APS-C apri di cielo non entriamoci secondo me entriamo invece nel mondo del medio formato perché io ho tenuto questa notizia non dico per ultima ma così per parlarne e dobbiamo parlare di lei per forza della SL2S? no però è vero è molto molto vero in realtà Fuji ha lanciato la sua GFX 100 Mark II siamo stati invitati all'evento di lancio a Milano per poterla vedere vabbè però almeno abbiamo visto un sacco di bei contenuti chiari e utili per capire il prodotto io ne ho visto solo Fabio ne ha parlato come una persona normale fortunatamente oggi è uscito quello di Primero adesso io non l'ho ancora visto no nemmeno io però non so cosa cazzo dire e ci sono due cose che mi piacciono di questa macchina due una non è il design sicuramente perché sembra stampata in 3D cazzo cioè se vedete le immagini della gente che la tiene in mano è inquietante sembra una roba di preproduzione è veramente strana è una macchina proprio tagliata cioè non mi fa respirare in alcun modo la filosofia Fuji già la prima GFX 100 non l'aveva fatto la seconda ti dirò era una storia che raccontava questa no però sicuramente hanno migliorato tutto quello che c'era da migliorare io di questo sono contento sono contento della parte video è sicuramente molto interessante meno male con quello che costa costa 8000 dollari mancava solo che non migliorasse però per me guardate questa foto ragazzi ragazzi seriamente parlando adesso cioè non scherziamo un attimo che cazzo è tutto a posto una mattonella la cosa però secondo me interessante finalmente Fuji c'è riuscita hanno riportato il mirino che si stacca come ci aveva la prima GFX come ci aveva la prima GFX quindi finalmente la S ha trovato la sua degna erede adesso io volevo trovarvi un'immagine che ho qua e finalmente il mirino si stacca però guardate che roba sembra veramente un pre-prod è allucinante guardate qui oscena sembra stampato in 3D davvero non so cosa dire guarda dietro tutto da un lance più che altro vorrei capire l'utilità di tutto quello spazio vuoto io vorrei capire a che cosa serve puoi girare le sigarette sopra tu la metti piatta puoi metterci il tabacco e farti la mista qua nella conchetta che c'è per il grip del pollice ho capito non capisco il senso mettete i due tasti in più e la camera letteralmente più pro che avete mettete i tasti in più io sono curioso di provarla perché ho paura che questo spazio qua al joystick ci arrivi veramente io ti dico già che non ci arriverò sicuro è 100% conoscendo come impugno le camere vedendola sicuro io non arrivo al joystick con la punta del pollice perché la GFX è grossa come camera poi pesa un chilo questa vabbè ma quello ci sta nel senso sono camere di un certo tipo non è una camera che ti porti in giro tutti i giorni però boh io diciamo che bene che è uscita sì diciamo che è una camera che mi sembra già che non ne parli più nessuno ragazzi il battery grip sembra un palazzo il palazzo cioè è un palazzo è allucinante poi per carità sono certo che sicuramente ci sarà gente che la troverà fantastica avete l'8k in biro ma sicuramente sicuramente sarà fantastica perché comunque le GFX fanno a parte la 50 che la 50 era tremenda che aveva non pochi problemi per quanto mi riguarda le GFX sono delle camere della madonna il problema è che il corpo macchina fa cagare cioè sta roba qui e non si può vedere cioè praticamente ha quattro tasti il joystick che è stato messo un altro po' mettetelo dentro l'oculare già che ci siete lo schermo fate lo schermo più grande a sto punto quello che mi viene da dire avete tutto quello spazio vuoto invece di fare quello schermo con quei bordi schifosi che basta perché non si può vedere e qualcuno mi dirà è più robusto anche quello della 7R5 è robusto ma non fa così schifo non lo so è una camera secondo me che sicuramente è stata raccontata di merda in Italia questo è poco ma sicuro ma in realtà posso dire è stata raccontata di merda un po' ovunque perché è uscito veramente poca roba sì è vero cioè non c'è stata una gran narrazione di questa macchina oggi ho visto Chris Hawke ha fatto uscire un video che letteralmente ha sentito la videocamera di cui nessuno parla chissà perché la videocamera tra l'altro chissà come mai nessuno ne parla comunque vabbè ragazzi la GFX la conosciamo ampiamente il modello precedente l'abbiamo anche recensito in maniera direi ottimale trovate sul canale un video sia sul mio che su quello di Manu dove ne parliamo ampiamente posso dire dici tutto anche troppo sbatti io Manu dimmi tutto ho finito subito pensa a me io ho finito mezz'ora fa ho finito abbiamo raccolto un po' la creme della creme c'è stato l'IBC io vi consiglio di fare un giro sulle cose che sono uscite perché ci sono tante tante novità ci sono delle cose di cui non abbiamo parlato tipo iPhone tipo A7C2 A7CR ma ne abbiamo già parlato sui nostri canali di iPhone ne parleremo in un video dedicato perché ci sono tante cose che stiamo scoprendo man mano ve lo utilizziamo e vorremmo parlare un po' con voi esatto tanti sottoprodotti merdosissimi che non abbiamo neanche voluto toccare ci sono stati i nuovi lanci anche di di altre luci di Nanlite che hanno lanciato Bicol insomma c'è un mondo ci sarebbe veramente da coprire per anni di tutto quello che è successo però è una buona inquadratura per dirvi le cose che sono interessanti soprattutto che sono un po' più accessibili a noi se parlarvi delle nuove Atlas anamorfiche che sono uscite non credo che vi possa interessare detto questo Manu io saluterei i ragazzi assolutamente e gli darei appuntamento sui nostri canali youtube ogni giovedì alle 16.30 sul mio e alle 19 sul tuo ma poi soprattutto ogni lunedì vi mettete comodi sul cesso aprite messa a fuoco alle 7 del mattino caffettino cacchina sigarettina messa a fuoco e si va a letto no si va a lavorare si va a lavorare dipende un po' dipende 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 che vita fatta si va a scuola e basta ragazzi seguiteci come sempre su Instagram guardate il nostro video pazzo che abbiamo fatto uscire martedì è vero perché è importante che voi lo guardiate per vedere i nuovi studi eccetera ma soprattutto vi ricordo il codice scontati di answer in descrizione e tra l'altro posso dire una cosa questo giovedì sui nostri canali vedrete un altro po' di cose di questo studio delle cosine ma non vi dico niente dai ragazzi ci vediamo presto buona settimana a tutti ciao ciao Grazie a tutti.